La città di Roma è stata colpita da questo gravissimo episodio, però questo gravissimo episodio di ieri non dimostra per nulla che c'è stato un fallimento del sistema di sicurezza della città. Roma è e il resto è una città sicura per le notizie che ho, per le informazioni che ho e per il governo della sicurezza che abbiamo. Andrò a trovare i feriti in ospedale, tra l'altro segnalo anche l'atto di eroismo, il signor Paganini che ha svolto lo ringrazieremo particolarmente per questo. Siamo tutti scossi da questa tragica vicenda e di nuovo il mio pensiero va alle vittime, ai feriti, ai parenti e ai cari delle persone che sono rimaste coinvolte in quello che è l'atto di un folle.